Non si è visto nessuno del comune, ci hanno messo in albergo solo per sette giorni, penso che domani mattina dobbiamo sgomberare dall'albergo. Siamo 13 famiglie, siamo 50 persone, cioè il sindaco si fa giusto per vedere, sindaco con i tuoi occhi, quello che è successo qua giù. Non si è visto nessuno. Erano sull'orlo di abbandonare tutto, sconfortati dalla mancanza di aiuti concreti e dalla minaccia continua che tutto sarebbe potuto accadere nuovamente. Sono le famiglie di Ligola Borgo che lo scorso 6 novembre vederò tutte le loro proprietà in base da tonnellate di fango. A trascimare fu l'alveo dei camaldoli. Tra che aveva deciso di lasciare tutto i gestori di un ristorante, che in meno di due ore vederò il lavoro di una vita spazzato via. Oggi il loro locale è di nuovo aperto al pubblico. Abbiamo fatto tutto da sole, affermano i gestori. Nessuna istituzione ci ha aiutato. Nonostante tutto però c'è ancora la paura che tutto possa accadere nuovamente. Il canale è sempre nelle stesse condizioni. Nessuno sembra essersi degnato di intervenire se non nei momenti immediatamente successivi allo stralivamento. Quasi tutte le famiglie, quelle che potevano permetterselo, hanno dovuto pagare di tasca proprio una ditta privata, che con l'ausilio di palle meccaniche ha rimosso in parte il fango a ridosso delle abitazioni. Ma c'è anche chi è stato costretto ad abbandonare definitivamente l'idea di rimettere in sesto la propria attività, come chi gestiva una ditta di trasporti. Il magazzino è rimasto come il giorno della tragedia. Impossibile recuperare la merce di mezzi meccanici. Troppo alti i cosi da sostenere. Intanto da anni i residenti di Ligola Borgo non sanno più a chi appellarsi. Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, comune di Pozzuoli, comune di Giuliano, ASL Napoli 2 Nord, ARPAC. A complicare il tutto anche i continui rimpali di competenza tra i diversi enti operanti nella zona. Ci sentiamo abbandonati non solo da quando tutto è accaduto, ripetono i residenti della zona, ma da anni, gli estesi durante i quali abbiamo lamentato l'alto rischio che correvamo. Tutto previsto quindi, quello che poi purtroppo è accaduto.